Dean Donghello amici di YouTube, benvenuti in questa nuova puntata qui sul canale. Oggi vi dirò i miei pronostici per il primo live event Clash at the Castle e a proposito del primo live event, sabato alle 19.30 ci sarà la live reaction sia qui sia sul canale principale del Bardo, YouTube Michele Posa, sia sul sito Viola, canale come sempre Michele Posa. Il match li ho messi in ordine di come secondo me si svolgeranno, quindi dall'opener al main event. Ditemi anche i vostri nei commenti, non prima di aver schiacciato il like, e metteteli anche voi in ordine, vediamo poi alla fine se ci abbiamo preso oppure no. Non mi dilungo oltre e vado subito con i miei pronostici per Clash at the Castle. Per me l'opener sarà questo match qui tra Samy Zane e Chad Gable. Vado con la vittoria qui di Chad Gable e vi spiego il perché. Secondo me la storia ha molto di più da raccontare con Chad Gable che vince la cintura e dice guardate ce l'ho fatta, ce l'ho fatta e magari vince con Otis che lo sfavorisce, cioè magari Otis si ribella finalmente al tiranno, a Chad Gable, ma Chad Gable la porta a casa lo stesso. E questa è un'idea che mi ha fatto venire Seven Fiend tra l'altro. E poi potrebbe costruire una rivalità tra Otis e Chad Gable, con Chad Gable che mette appunto in palio il titolo intercontinentale. Potrebbe essere una bella e nuova chiave di lettura questa qui. e quindi vado con la vittoria di Chad Gable, con Otis che aiuta veramente Sammy Zane, ma alla fine la porta a casa comunque Chad Gable. Il secondo match, secondo me, della serata sarà questo match tra Bailey e Piper Neven. Non ho molto da dire qui. Un match nato solo perché Piper Neven è la beniamina di casa e quindi ha un match titolato. Non vince da 40 anni, però comunque ha un match titolato. E va bene, ok, ci prenderemo questo match. Vittoria di Bailey, non stiamo qui a parlarne troppo, nulla da aggiungere. Ecco, passando qui e anche qui la vittoria di Cody Rhodes sembra scontata. Come vi ho detto nel processo di parrucco, boh, perché si è arrivato a questo high quick match, perché si è alzata così tanto la rivalità, per me non ha senso. Come stavi andando ai 5 all'ora, ripeto, hai iniziato da un momento all'altro ad andare ai 100. boh, comunque sicuramente verrà fuori un bel match, secondo me potrebbe essere questo il match della serata, e vado con la vittoria di Cody e verrà fuori sicuramente un gran bel match. Anche se, sono curioso di vedere cosa faranno gli altri, gli altri, insomma, gli amici di AJ Style, cosa faranno Hugh Gellos e Karl Anderson. lo andranno ad aiutare o no? E se dovesse essere così, chi andrà ad aiutare Cody? Magari un rientrante Orton, per poi sfidarlo più avanti, boh. Comunque vado con la vittoria di Cody. Passando al match per i titoli di coppia femminili, ho... Allora, io qui, se ragiono... Se ragionassi, diciamo, in maniera normale come gli altri match, vi direi che qui mi aspetto la vittoria di Bianca Belera e Jay Cargill. Cioè, tutti noi ci aspettiamo questa vittoria qui, però tra un paio di mesi circa c'è SummerSlam e io non vorrei che iniziassero già adesso a metterle una contro l'altro. Quindi cosa vedo qui? Vedo magari la vittoria delle streghe, quindi di Alba Fire e della sua compagna, e per poi iniziare a costruire la rivalità tra Jay Di Cargill e Bianca Belera. Magari tutte e due vincono l'opportunità per andare nel Money in the Bank e poi dopo si ostacolano una vicenda e nasce la rivalità per SummerSlam. E poi anche tenendo in considerazione che secondo me almeno una vittoria per le beniamine di casa ci sarà. Quindi, secondo me... Allora, vado con la vittoria di Jay Di Cargill e Bianca, ma occhio alle streghe, perché se vogliono iniziare a costruire la rivalità tra Jay Di Cargill e Bianca potrebbe essere Clash e Decastle all'inizio della loro rottura. Quindi vado con la vittoria di Bianca, con un 20% mettiamo, per quanto riguarda le streghe. Chiudendo sul main event, qui sembra scontata secondo me la vittoria di Drew McIntyre, ma Drew McIntyre secondo me non deve vincere questo match. Non deve vincere questo match perché secondo me Demian Priest è un ottimo campione dei pesi massimi, si merita quel titolo lì e si sta comportando veramente molto bene e la sua presenza con quel titolo lì è resa bene. Scenograficamente è un ottimo campione, anche da vedere tutto quando si presenta con la cintura, fa il suo effetto Priest. Non voglio che perda quella cintura adesso e secondo me Drew McIntyre non la deve vincere anche perché mi aspetto un'intromissione di CM Punk. Non se ne è parlato per niente in questi giorni, però l'odore di CM Punk che potrebbe palesarsi e costare il match a Drew, oppure, altra cosa che mi è venuta in mente vedendo l'ultima puntata di Raw, potrebbe succedere che sia Liv Morgan a far vincere Priest perché è vero che il Judgment Day è bandito dal ring, però Liv Morgan non fa parte del Judgment Day e magari per far contento Dominic o gli altri membri del Judgment Day per far vacillare anche loro magari aiuterà Priest a vincere. Quindi ho queste due idee qui, quella di CM Punk e quella di Liv Morgan che potrebbero far perdere, diciamo, il match a Drew McIntyre. E con questo, con i pronostici di Clash at the Castle ho terminato. Mi raccomando, ditemi la vostra qui nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima qui su YouTube e ciao!